Ciao a tutti ragazzi, qui come sempre il vostro Ara e benvenuti in questo nuovo unboxing Sono arrivati un sacco di pacchi, sono 5 pacchi di cui uno enorme Ci sono i nuovi arrivi Bandai, si è sbloccata Bandai ma non solo, ne vedremo delle belle ragazzi Una marea di roba, direi di non perdere altro tempo Purtroppo vi dico già che molte di queste cose sono andate esaurite in preordine Cominciamo subito con il primo pacco Bandai, nastro blu come sempre Eccolo qui e andiamo un po' a vedere il contenuto di questo primo pacco Non vedo l'ora di aprirli tutti ragazzi perché veramente c'è un sacco di roba incredibile oggi E cominciamo con Ikki Fenix per la linea Midcloth 20esimo anniversario Eccolo qua, questo come lo vedete ragazzi, non lo vedete più perché sul sito non ci arriverà Sono stati bravi coloro che l'hanno prenotato perché purtroppo ho esaurito tutte le copie Ed erano un bel po' le copie, non erano poche Quindi io vi ringrazio come sempre, tornando indietro ovviamente ne avrei prese di più Però purtroppo non posso prevedere Andiamo da parte un attimo questo, andiamo ad aprire invece quest'altro per fare un po' e un po' E vediamo un po' il contenuto di quest'altro pacchettino Vediamo un po', questo dovrebbe essere un pacco un po' misto E vediamo quali meraviglie ci riserva Oh allora, allora in realtà ci sono ancora arrivi Bandai E che arrivi Bandai, guardate che spettacolo mamma mia Allora, abbiamo Naruto, quello 99 della sigla della Opening 99 Eccolo qua, fighissimo questo accessorio bonus La bandiera al Naruto di Naruto Shippuden con altri visi bonus Molto molto figo Poi abbiamo anche Sakura Stessa cosa, sempre dalla Opening 99 Anche lei con accessorio esclusivo Fighissime queste confezioni, molto molto eleganti E ancora, attenzione, abbiamo il GX 108 Eccolo qui, questo ordinato appositamente per il mitico Danilo E poi, attenzione perché abbiamo un'altra bomba clamorosa ragazzi E' arrivato Eustace Kid Direttamente da One Piece E siamo solo all'inizio ragazzi Siamo solo all'inizio Chiaramente per la linea SH Figures Continuando ancora Andiamo a prendere questo pacco pesantissimo ragazzi Ancora nastro blu Bandai ovviamente E andiamo un po' a scoprire Quale meraviglia è contenuta all'interno Vi dico già che si tratta di un altro Meat Cloth Questa volta un Meat Cloth X Probabilmente, probabilmente Quello che è sempre stato Il mio Cavaliere d'Oro preferito Insieme a quello ovviamente del mio segno zodiacale Che non è questo in realtà Questo è Shaka Eccolo qua Che spettacolo ragazzi Che spettacolo questa cosa che hanno fatto Eccolo qua Virgo Shaka Ristampato eccezionalmente Per la linea Meat Cloth X Richiesto da tanti Che spettacolo perché Perché ragazzi Ci hanno dato la confezione speciale Sì Che però Nasconde al di sotto Togliendo Questa appunto copertina Nasconde al di sotto Quella classica Quindi non stonerà Nell'esposizione anche delle confezioni Bellissimo questo ragazzi Bellissimo di questo Stranamente ho alcune copie ancora disponibili Non è andato Già esaurito E quindi Affrettatevi se volete prenderlo Lo troverete sul sito E ora ragazzi Trasciniamo il penultimo pacco Che è talmente grande Che praticamente entra nell'inquadratura Senza neanche Doverlo rialzare E vediamo un po' Quali altre meraviglie Sono nascoste qui dentro Ragazzi Ovviamente oggi proprio Arrivi su arrivi su arrivi Una marea veramente di roba Allora Andiamo con calma Abbiamo Un'altra Altre copie di Eustace Kid Ne ho prese un po' Però Sono quasi tutte sparite in realtà Poi E' tornata la SH Figures Di Chainsaw Man Eccola qui Anche questa Richiestissima ragazzi Abbiamo Alcune copie Rispuntate all'improvviso Del Goku Blue Super Saiyan Super Saiyan God Ovviamente Eccolo qui SH Figures Chiaramente Altre copie di Sakura Cioè ragazzi Una roba Non finiscono mai Questi arrivi E' arrivato anche Jinkazama Da Tekken 8 Eccolo qua SH Figures Veramente Non so più dove mettere la roba Ragazzi Raramente ho fatto un unboxing Così tanta roba E' arrivata anche la Figuar Zero Di Tachuchia Così Per non farci Mancare niente Anche un po' Di statue Ancora Abbiamo anche Questo Fighissimo set Delle Tartarughe Ninja Five Points Le prime Originali Tartarughe Ninja Con proprio Il design Originalissimo Con anche però Delle parti intercambiabili Molto particolari Queste Bellissime Bellissime Five Points Mezco questa qui Come linea Da tenere d'occhio E ancora ragazzi Ancora Abbiamo Altre copie di Frieza Fort Form Queste qui Erano state già preordinate Quindi Non credo Arriveranno sul sito Continua qui Una piramide di roba Poi ancora Abbiamo Ken Pachi Zaraki SH Figures Direttamente da Bleach Bellissimo questo Uno dei miei personaggi Preferiti E ancora Ancora Scavando ragazzi Un pacco che non finisce mai Sembra La borsa di Mary Poppins Abbiamo anche Il Mazinga Eccolo qua Mazinga Z Mazinger Soul of Chogoking GX 105 Eccolo qua Un paio di copie Non facciamoci mancare Neanche i robotoni E ancora Abbiamo anche Gile SH Figures Ragazzi Ecco qua Veramente di tutto Di tutto e di più Abbiamo anche Un bel Brown box Con All'interno La figure zero Di Abarai Range Questo Dai lo apriamo un attimo Perché secondo me Merita Merita E in effetti È molto molto figa Qui si può vedere Qua non si vede molto Ma qui si può vedere Nella sua interezza In questa immagine Bellissimo Questo effetto Della spada Che sbatte al suolo E poi torna sopra Figata questa statua Veramente E ancora Molosa ragazzi Questo ragazzi Pezzo Pezzo assolutamente Da avere Se non l'avete in collezione Da prendere Al volissimo Poi in questa edizione Speciale Ancora di più Finalmente È finito Questo pacco Enorme E lo approfittiamo E lo usiamo Come appoggio Per aprire L'ultimo pacco Bandai Ragazzi Eccoci qua Con L'ultimo arrivo Avrete Già un attimino Immaginato Di cosa si tratta Perché Le figure Diciamo Di Dragon Ball SH Figures Sono sempre Tra le più Attese E come sempre Io concludo I video Con loro Ecco qua Pacco Aperto E purtroppo Ragazzi Devo dirvi Che per il momento Per il momento A meno che non spuntino fuori Delle copie bonus Dal fornitore La nuova uscita Ovvero Il Vegeta Power level 24000 E esaurito Ragazzi Non arriverà sul sito Le avete Prenotate Tutte Tutte E vi ringrazio Come sempre Per tutti gli ordini Che fate Da Ara Shop Link qui sotto In descrizione Vi ringrazio sempre Per la visione Ciao da Ara Con la giornata è sempre